Buongiorno, oggi vi propongo Marco Balzano. È un autore di vari romanzi e raccolte di poesie. Ha pubblicato nel 2018 per la casa editrice Einaudi Resto qui, un romanzo già tradotto in più di 30 paesi. La voce narrante è Trina, una giovane donna che sente il bisogno di lasciare testimonianza della sua terra, il Sud Tirolo, una terra di confini e grandi laccevrazioni ed in particolare del suo paese Curon, un paese ora sommerso dal lago generato da una grande diga costruita nel secondo dopoguerra. Il lago ha cancellato case, strade, storie, dolori, illusioni e ribellioni. Di quella terra restano solo la punta del campanile che emerge dall'acqua e la voce narrante di Trina. Nella primavera del 23 mi preparavo per l'esame di maturità. Mussolini aveva aspettato proprio il mio diploma per stravolgere la scuola. L'anno prima c'era stata la marcia su Bolzano con i fascisti che avevano messo a ferro e fuoco la città. Hanno incendiato gli edifici pubblici, pestato gente, cacciato con la forza il borgomastro e come al solito i carabinieri sono rimasti a guardare. Fino a quel momento, specie in queste valli di confine, la vita era scandita dai ritmi delle stagioni. Sembrava che quassù la storia non arrivasse. Era un eco che si perdeva. La lingua era il tedesco, la religione quella cristiana, il lavoro quello nei campi e nelle stalle. Non c'era da aggiungere altro per capire questa gente di montagna, di cui fai parte anche tu, se non altro perché ci sei nata. Mussolini ha fatto ribattezzare strade, ruscelli, montagne. Sono andati a molestare anche i morti, cambiando le scritte sulle lapidi. Hanno italianizzato i nostri nomi, sostituito le insegne dei negozi. Ci hanno proibito di indossare i nostri vestiti. Da un giorno all'altro in classe ci siamo ritrovati insegnanti veneti, lombardi, siciliani. Loro non ci capivano, noi non capivamo loro. L'italiano qui in Sud Tirolo era una lingua esotica che si sentiva da qualche grammofono o quando arrivava un qualche venditore. Anche la popolazione del Sud Tirolo nel frattempo cambiava. Passavano i mesi e continuavano ad arrivare colonie di italiani mandati dal duce. Persino qui a Curon ne è arrivato qualcuno. Li riconoscevo subito quei forestieri del Sud, con le valigi in mano e il naso all'insù, a guardare pendii mai visti e nuvole troppo vicine. Dal primo momento è stato noi contro loro, la lingua di uno contro la lingua dell'altro, la prepotenza del potere improvviso e chi rivendica radici di secoli.